Ecco, siamo qui nell'area Richiro Bagagli, adesso andiamo verso l'uscita dopo aver fatto i controlli. Seguiamo per l'uscita. Ecco, siamo all'uscita, ora seguiremo per i bus. Qui abbiamo i taxi. Ecco, adesso andremo fuori a destra per i bus. Siamo al terminal T3 e ora seguiremo per i bus. Ecco, Polobus, bus station. Grazie. Ecco l'indicazione per i bus, bus ticket. Dovremo raggiungere lo strallo 13 per il bus che ho prenotato. Ecco l'indicazione, strallo bus 13-15, bus notturno, prom city center. Ecco, qui ci sono tutte le varie fermate dei bus. Siamo di fronte all'ingresso 5. Ecco l'indicazione per i bus. Ecco l'indicazione per i bus. ecco qua ci sono le biglietterie vediamo ecco il primo è il nostro che sta al 13 ecco il tambus alle 5.40 in perfetto orario allo strallo numero 13 ecco il primo è il nostro che sta al 13